E con le mestruazioni posso fare la visita ginecologica? E il PAP test? La visita ginecologica assolutamente sì. Considerate che ci sono donne che vanno dal ginecologo proprio perché hanno una mestruazione magari troppo abbondata e non riescono a fermarla. Addirittura durante le mestruazioni noi inseriamo la spirale, medicata o non. PAP test e tamponi vaginali o cervicali invece non vanno assolutamente eseguiti quando si hanno le mestruazioni. Anzi bisogna essere assolutamente pulite quindi anche le perditine marroncine da spotting non bisogna averle altrimenti non è garantita la correttezza della lettura di questi esami. Pertanto non ti preoccupare con il ginecologo se hai le mestruazioni in corso. Noi siamo abituati a lavorare con il sangue anche in quella zona lì.